Il nuovo accordo di programma fra le istituzioni per l'area industriale di Piombino è stato al centro dell'incontro fra il presidente della regione toscana Enrico Rossi, il sindaco Massimo Giuliani e i sindacati nazionali e di categoria CGL, CISL, UIL e UGL. In pratica hanno fatto il punto della situazione alla luce delle linee guida presentate dal gruppo indiano Gindal, che subentra agli algerini di Cevital per il rilancio delle acciaierie a Ferpi. Dopo l'accordo di programma, che venerdì credo entro una settimana non di più formuleremo, bisognerà chiudere anche l'accordo con il Ministero del Lavoro per avere la riconferma delle coperture di protezione sociale che sono necessarie per chi a Piombino riprenda pienamente l'attività e quindi siano rioccupati, non ci siano esuberi e comunque che i lavoratori non siano lasciati per strada. Nella fase in cui bisogna lavorare perché l'attività riprenda a piano ritmo. Il presidente Rossi ha poi aggiornato il Consiglio regionale su tutte le novità su Piombino, facendo riferimento anche ad un accordo più locale sui tempi di realizzazione del piano Gindal, sugli interventi di demolizione dei vecchi impianti per creare velocemente nuova occupazione e sull'avvio entro il 2019 dei lavori per il nuovo impianto elettrico che produrrà acciaio. E il ruolo del nuovo Ministro allo sviluppo economico Luigi Di Maio? Rossi ha risposto citando le parole di Matteo Salvini in un comizio. Lui disse che qualora l'intervento Gindal non fosse andato in porto si sarebbe dovuto intervenire con la nazionalizzazione. Siccome appunto come ho detto le cose mi sembrano ben impostate, io confido che ci si riesca e ci si riesca in tempi brevi e siamo impegnati per questo e si ritorni a produrre acciaio. Io sarò però contento solo quando si tornerà a colare acciaio a Piombino. Se dovesse accadere per qualsiasi motivo che questa operazione non va in porto è bene che lo Stato allora si prepari.